Allora, noi andiamo avanti con una parola. Anche perché stanno per arrivare gli americani? Sì, Alfonso, c'è Alfonso che vuole dire qualcosa. Chi arriva, Alfonso? Io in realtà, assieme a Luciano, il nostro regista, Luciano Morelli, abbiamo un saluto da parte di un personaggio molto importante. Come voi sapete, io ho un mio programmino al piano di sopra, il Caffè degli Artisti, ed è spesso ospite al Caffè degli Artisti un personaggio conosciuto come il salutatore, Cristian Paoloni. E se Luciano ci manda il contributo, c'è un artista a te molto caro che ci dà un saluto. Vediamolo. Dai, vediamo. Ciao a tutti quanti, ecco qui il grande Lucio Dalla che manda un saluto agli amici degli anni 70 e 80. No, 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 era una battuta. Ciao a tutti, dal grande Lucio Dalla, un saluto agli amici dei fans anni 70 e 80. Un saluto a quelli che ci sono ancora, un saluto agli amici degli anni 70 e 80, ma saluto soprattutto te. Cristian, grazie Lucio. Ciao Cristian, ciao. Sei un grande. Ciao. Ciao. E noi salutiamo sempre. Il nostro grande amico Lucio Dalla che avrebbe compiuto il compleanno ieri, lo abbiamo ricordato. E lo abbiamo ricordato. Piero Cassano mi ha fatto ricordare quel Sanremo, quel 2017, lo raccontavo ai ragazzi in questi giorni, quando io chiesi a Lucio, dico Lucio che emozione si prova a tornare al festival dopo 20 anni? Mi ha detto guarda, il festival è una bella cosa, però io in realtà volevo passarmi il capriccio di dirigere l'orchestra, sono venuto per dirigere l'orchestra, non mi interessa cantare, ero un grande. Un grande personaggio. Grazie Alfonso Scagno. E' inimitabile.